I migliori talenti musicali in città per la stagione concertistica internazionale della Fondazione Ivan Bruschi che quest'anno spegne 18 candeline. La Fondazione è la casa delle meraviglie, la casa dell'antiquariato, però è uno strumento culturale polifunzionale, quindi la stagione concertistica per noi è diventata ormai una tradizione, ha un pubblico ormai affezionato e rappresenta un appuntamento indissolubile ormai. Dal 30 marzo al prossimo 29 giugno le sale della Fondazione Ivan Bruschi, nel cuore del centro storico Aretino, ospiteranno sei concerti che come da tradizione porteranno in città altrettanti giovani musicisti di livello internazionale e vincitori di prestigiosi premi. Andiamo un po' a cercare, nel senso che sono fuori dal giro concertistico normale classico italiano perché hanno vinto spesso e volentieri da pochissimi mesi. Andiamo direttamente alla fonte perché penso che portare ad Arezzo dei talenti nuovi sia molto importante per il pubblico e dia un grande valore alla stagione. Ad aprire il festival a Fedor Rudin, violinista pluripremiato a livello internazionale. Ha studiato con i più grandi maestri come Zakar Bronn ed altri grandissimi e è stato vincitore dei più importanti concorsi internazionali. Ricordiamo il Paganini, ha vinto l'Enesco, il Rimartò in Germania e è stato per tre anni la spalla dei Wiener Philharmoniker. Con il biglietto del concerto sarà possibile anche scoprire la mostra in collaborazione con la Fondazione Alinari e quella sulle banconote della Shoah ospitate all'interno del museo.